Brava Bea, complimenti a te, complimenti alle ragazze, grande partita, grandissima vittoria questa sera, molto dura, molto difficile. Sì, sì, assolutamente, noi siamo partite carichissime, assolutamente, però loro poi sono entrate in partita pian piano e ce l'hanno fatta a sudare. Come un diesel, veramente, ve l'hanno fatta a sudare tantissime. Ce l'hanno fatta a sudare, però è finita bene, assolutamente. Senti, grande impatto tuo sulla partita, sul pubblico, hai visto che bel pubblico che c'era stasera? Assolutamente, grandi tifosi che ci seguono, vi aspettiamo sempre più numerosi in palestra. Insomma, la prima è andata, sembrava una formalità, non è stato così, va detto merito anche alle ragazze della Cora. Certo, assolutamente, come ho detto prima, quando sono entrate in partita hanno carburato e molti colpi sono state molto bravi. Complimenti Beatrice, brava, complimenti.